Donella Bonciani, avvocato valdarnese, è al secondo posto nelle liste 5 stelle per il Senato nella circoscrizione che comprende anche la nostra zona. E ecco nella sua presentazione la base delle tematiche che la stessa esponente Pentastellata vorrebbe poter portare in Parlamento. I temi cari al Movimento sono ovviamente il problema del lavoro, il problema della ripresa produttiva, che è un problema serio anche per i nostri territori. Quindi portiamo avanti anche i temi, quale appunto la ripubblicizzazione dei servizi pubblici essenziali. In campagna elettorale si parla molto spesso di pressione fiscale, che effettivamente è troppo alta, però dobbiamo anche tener conto che i cittadini, oltre a essere vessati, i cittadini e le imprese da un carico fiscale eccessivo, sono anche vessati da tariffe troppo alte. Basta pensare appunto alle tariffe in materia di servizio idrico, alle tariffe in materia di servizio dei gestioni dei rifiuti. La sua differenza tra, diciamo così, la campagna a livello comunale, fatta insomma, possiamo dire, da attivista principe a Montevarchi, e questa per le politiche nazionali? Allora, per quanto riguarda il metodo non ci sono differenze. Noi cerchiamo di stare in mezzo ai cittadini e di capire quali sono i problemi dei cittadini. Ovviamente la campagna elettorale sul piano nazionale ci consente di far presente qual è la nostra visione. Noi vogliamo, noi abbiamo un progetto per migliorare la qualità della vita degli italiani. Quindi noi proponiamo le nostre politiche per arrivare appunto ad un sistema economico sostenibile, ad un sistema in cui il pubblico possa recuperare il suo ruolo. E se il pubblico recupera il suo ruolo, e se viene meno quel colossale conflitto di interessi che oggi c'è tra pubblico e privato, anche il tessuto produttivo ne risentirà positivamente.